Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo insieme forse uno dei momenti cruciali di tutta la trama di Terra Amara. Ma prima di iniziare vi ricordo di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Il vostro supporto è fondamentale per poter creare sempre nuovi video. La strada che porta la verità sulla paternità di Adnan è costellata da imprevisti e colpi di scena. La terza stagione di Terra Amara ci terrà con il fiato sospeso per tanti episodi, mentre ancora Elmas non sa ancora di essere il padre di Adnan. Ma adesso ripercorriamo insieme le ultime importanti tappe che hanno portato alla rivelazione che Zuleya farà di Elmas. Dopo il matrimonio con Elmas, la dottoressa Mushgan ha diverse occasioni e motivi per notare il legame profondo che tiene unito suo marito a Zuleya. E la gelosia purtroppo la farà da padrona. Ma l'entrata in scena della zia Beice acuisce la gelosia e l'insicurezza della dottoressa, tanto da diventare una rivale pronta a volere la scomparsa di Zuleya pur di salvare il suo matrimonio e avere l'amore di Elmas tutto per lei. La gelosia di Mushgan la fa diventare sempre più ossessionata dal pensiero di dover eliminare Zuleya per avere Elmas tutto per sé. Così, fingendo di essere Elmas, attirerà Zuleya in una trappola e le darà appuntamento in un bosco per incontrarsi. Ma quando Zuleya arriva sul posto, invece di trovare Elmas, con grande stupore trova Mushgan che arriverà a puntarle una pistola. Mushgan le rivela di sapere che Adnan è figlio di Elmas e l'accusa di voler creare una famiglia con lui. Nonostante Zuleya giuri anche sui figli che non sia vero, Mushgan, fuori di sé, la obbliga ad avvicinarsi ad un albero e vedremo una corda penzolare da un ramo. Sempre puntandole la pistola addosso, le ordina di salire sul sasso che si trova sotto la corda per impiccarsi. Zuleya disperata piange e prega Mushgan di lasciarla stare, ma in vano. La dottoressa è accecata dal rancore e dalla gelosia. Per convincerla, Mushgan le spara dei colpi vicino alla testa, ma quando Zuleya sale sulla pietra e si mette il cappio al collo, vede Mushgan pensierosa e titubante. Così, approfittando del momento di incertezza di Mushgan, si toglie il cappio e le chiede di consegnarle l'arma, promettendole di non raccontare a nessuno dell'accaduto. Ma Mushgan non vuole dargliela e quando Zuleya cerca di prendergliela nasce una colluttazione e, a causa di un errore fatale, parte un colpo di pistola che colpisce Zuleya al petto, facendola accasciare a terra. La tensione è palpabile e il cuore batte forte mentre si guarda la scena in cui la gelosia e l'ossessione di Mushgan hanno portato a un tragico epilogo. Che fine farà Zuleya e come reagirà il Mas quando scoprirà la verità sulla paternità di Adnan? La tensione è davvero alle stelle e vedremo Mushgan far perdere le sue tracce con l'aiuto della zia Beice, mentre la terribile notizia di quello che è accaduto a Zuleya si diffonde velocemente nella cittadina di Adana. Zuleya è stata ritrovata riversa a terra in una pozza di sangue con una pistola accanto. Non ci sono dubbi, è stata lei a compiere questo gesto estremo, dopo che Demir le aveva strappato i figli per l'ennesima volta. Zuleya verrà così trasportata d'urgenza in ospedale e subirà un lungo e delicato intervento chirurgico. Il Mas, venuto a conoscenza dell'accaduto grazie a Cetin, si precipita sul posto per vederla, ma all'arrivo in ospedale c'è Demir che, appena vede il Mas, lo accusa ferocemente di essere la causa del gesto estremo della moglie. Così nasce una violenta discussione, degenerando poi una vera e propria lite. Il personale medico è dovuto intervenire per separarli, mentre Mushgan assiste impotente alla scena. Il Mas, devastato dal dolore e dall'amore che inugre per Zuleya, si sente intrappolato in un matrimonio infelice e decide di confessare tutto a Fekeli. Infatti dirà al padrino che non sopporta neanche più la vista della moglie e che vuole chiedere il divorzio al più presto, ma Fekeli lo ferma per farlo riflettere. Qualsiasi sua azione avrebbe avuto conseguenze sulla vita dei tre bambini coinvolti, uno dei quali figlio di Il Mas e gli altri due di Zuleya. Il Mas va spesso a trovare Zuleya però di nascosto in ospedale, dietro il vetro che delimita la sua stanza. Una sera si nasconde lì e la vede addormentata vicino a Demir, ma questa volta finalmente, dopo giorni di angoscia e attesa, assiste al risveglio di Zuleya dal coma. Dopo essersi ripresa dall'operazione, Zuleya ha un drammatico colloquio con Mushgan, che vuole farla passare per pazza per aver tentato di farla finita. Ma la determinata Zuleya ricorda tutto ciò che Mushgan le ha fatto e le dice chiaramente che nonostante non l'abbia denunciata, la farà soffrire come ha fatto lei che ha portato Demir a toglierle i bambini. Vi lascio qua sopra a destra un link per vedere i video proprio su quello che ha fatto Mushgan a Zuleya nelle puntate precedenti. Mi raccomando vai a vedere il video. Ma ritorniamo alla trama. Successivamente Zuleya manda Gultien a chiedere il mas di raggiungerla nella sua camera d'ospedale perché deve parlargli urgentemente. Il mas va subito da lei e lei gli dice che deve fargli una rivelazione molto importante, ma gli chiede di prometterle di non fare nulla dopo averla ascoltata. Il mas impreda alla curiosità, glielo promette, ma rimane comunque perplesso da questa richiesta. Zuleya, dopo aver esitato e con il cuore in gola, riesce finalmente a dire a il mas che Adnan è suo figlio. Tuttavia la reazione di il mas non è quella che Zuleya aveva sperato. Cosa accadrà dopo questo scioccante rivelazione? Non possiamo far altro che continuare a seguire con ansia la storia perché Terra Mara ci ha catturati con la sua trama intricata e sui personaggi complessi. E adesso che la verità è stata rivelata, non possiamo far a meno di chiederci come andrà a finire. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere la reazione di il mas. Preparerò per voi un nuovo video, ma solo se vi interessa. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace al video per supportare il canale. Grazie.